MADEMATICA MADEMATICA Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano va... MADEMATICA 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 Lui respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano ha Marie, Marie Una gillante che sembra furbile, è protetto da scuri termici, se finella lui ci fa Quando schiaccio un pulsante magico, l'unico il vento di pergalate, con l'onda per l'umanità Si trasporta in un razzo missile, con circuiti di mille valcole, tra le stelle, spinta e va Pugano, 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 pugano Pugano, 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 pugano Grazie a tutti.